buongiorno sono luisa scaffa probabilmente non mi conoscete anche perché non sono di santa maria ma abito a santa maria e lavoro a santa maria e vivo a santa maria a me piace il detto che non bisogna solo sempre vincere ma bisogna partecipare ma invece secondo me essendo in questa lista dei samaritani a noi non interesserà solamente vincere noi se vinceremo faremo qualcosa per la città perché saremo dentro ad una coalizione solo a patto che sia una coalizione fattiva io per fattiva intendo dire che piano piano passo dopo passo dovrà risolvere i milioni di problemi che ci sono a santa maria noi non accetteremo di correre con chiunque solo per avere una poltroncina sulla quale sederci e prendere uno stipendio a fine mese se noi entreremo nell'amministrazione comunale ovviamente grazie al vostro voto lo faremo solo ed esclusivamente per partecipare alla vita politica della città grazie arrivederci